Come mai, come mai, sempre in sulla dove vai, ma che vuoi, ma che vuoi, una volta, una te, ma la gente come noi non voglia mai, la gente come noi non voglia mai, abbiamo un sogno del potere, Napoli torna al lavoro, Napoli, Napoli, Napoli non vola. Andiamo avanti, fin quando non viene ritirata la procedura di licenziamento, il governo costringe la UIRPRO a sedersi al tavolo. Andiamo avanti a combattere contro questa ingiustizia, si sta chiudendo un'azienda che non è in crisi, anzi che ancora continua a dire di fare profitto. E se il governo permette a queste aziende, a maggior ragione che non sono in crisi, di chiudere, domani che cosa farà l'Italia? Che futuro ci sarà per i nostri figli? Bisogna prendere UIRPRO, costringerla al tavolo e costringerla soprattutto rispetto a quell'accordo. La gente come noi non voglia mai, Napoli, Napoli, Napoli non voglia, no Napoli, no UIRPRO, no UIRPRO, al governo ci sei tu, tutelarci devi tu. Noi vogliamo lavorare, noi vogliamo lavorare, noi vogliamo lavorare. Grazie. Grazie.